Non c'è proprio niente che ti vuoi tenere? Non la voglio io in casa tutta questa roba, è tutto così pesante. Questi mobili sono capaci di metterti addosso la valentoria. Ma perché non prendi mai un'iniziativa? Ma dov'è questo compratore? C'è il suo piano, no? Settimo piano. Suo padre è deceduto? Da circa 16 anni. E questi mobili stanno qui da 16 anni. Non c'eravamo mai decidi. Ora demoliscono il palazzo. Un uomo che si siede a un tavolo come questo, non solo sa di essere sposato, ma di essere sposato per tutta la vita. non c'è scanto. Lei non si immagina che situazioni professori di università, titolari di negozi, personalità dello spettacolo che danno 500 dollari ad un avvocato per contendersi un comodino che vale 50 centesimi... Misuri. Che cosa? Il tavolo. Io non sono un tipo socievo. No, non lo. E non sono un uomo d'affari. E non sono bravo a fare conversazione. Perciò stabiliamo questo prezzo e chiudiamola qui, d'accordo? Parte. Come ti va, fratellino? Non ti aspettavo. Che stai facendo? Ho venuto. Bene. A quanto? 1100. Per tutto quanto? Di noi due, il più dotato degli studi. Ero io! Ti ricordi quando sei venuto da me per il prestito? Ti ricordi cosa ti dissi? Chiedili a papà i soldi. Te lo ricordi questo? Ma di che diavolo stai parlando? No. 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 Grazie a tutti